ex discoteca vada vada si ne va rega che bella qui ok grazie 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 wow che meraviglia mamma ma infatti è tutto spaccato ma c'è nel senso quindi la gente è venuta qua a spaccare le cose però io non capisco è assurdo è assurdo però è un luogo pazzesco mi piace un sacco ma io wow ma è ampissimo meraviglia meraviglia dei floppy disk pepe bianco oh sono preso un colpo videocassette bellissimo coltelli un'infinità di coltelli bellissimo sono libri di cucina madonna bellissimo guarda di qua qua è pieno di cose leggendari ma io ma io dico ma perché ma anche qua ma perché cioè io dico che sta gente è cioè boh che cacchi di problemi c'è cioè che cosa ci provi cioè nel senso è così bello non so lasciare tutto così com'è e invece devi devi distruggere l'uomo sa fare solo questo distruggere mi fatti andiamo a vedere si si vandali maledetti che meraviglia però ma è grandissimo c'è c'è un sacco di roba ti immagini ma che poltono è quella madonna bellissima ma cioè tutto è rimasto invariato che bello veramente affascinante si la la sopra guarda solo velocemente arrivo allora non c'è nulla ok si ah là ci sono delle stanze si qua ci sono delle mattonelle l'uzenaio come casa mia bellissimo si è che qua forse è aperto grazie a tutti signor banale grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Oh, leggendario. C'è un gile rosa? No, questo gile è bellissimo. Un gile rosa. Mi piace da impazzire. È meraviglioso. Innamorato, assolutamente innamorato. No. 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 Grazie a tutti. Sto riprendendo i dettagli. Qua è molto Twin Peaks. No, questa è la venere di Twin Peaks. Bellissima. Oh my God. Sono estasiato veramente. Tende rosse. Conchiglia. Olimpus. Sono davanti un ristorante. Questo cos'è? Un libretto per gli assegni? Sì. Leggendario. Mamma mia, tutte le foto. Che meravigliosa. Tutte le foto delle persone. Vado. Orietta Verdi. Brunella. Discoteche. Polemiche in pista. Polemiche in pista. Madon. Sto disegno o da straoscuro? Che termine? Dov'è? 2001. 2001. 2001. Le 2001. Sembra che questi sono dei documenti confidenziali. Madonna. E? Qua ci sono dei documenti confidenziali. Qualcosa del migliore. Beh. Questo è la prova. Assolutamente. Madonna. Assolutamente. Ma qua ci sono tutte le... Cioè, tutte le ricevute. Aspetta qua giù. Giusto. È solo che c'ho due telefoni in mano. Uno per la luce. Oh, io voglio fare una foto qua. Cioè, qua con... Però è tutto buio. Vediamo se io viene bene. Sì. Oh, allora sì. Perché è qua e tu mi pizzi al massimo. Non so. Grazie per la visione 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 Oh ma... Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione